Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tutte le novità del mese di maggio riguardo le pensioni, data di inizio pagamenti, trattenute e ciò che spetterà ai pensionati italiani. Novità importanti per tutti i pensionati italiani, una platea da oltre 16 milioni di persone. L'Inps ha annunciato dettagli rilevanti sulle pensioni di maggio, sulle cifre del sussidio che verrà erogato il prossimo mese e sulle date di pagamento. Si tratta di informazioni che, purtroppo, non vanno a vantaggio degli aventi diritto. Di cosa si tratta? Ecco cosa ha svelato l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e che succederà a partire dal 2 maggio. Le pensioni di maggio saranno pagate a partire da giovedì 2, dunque dal secondo giorno del mese dato che oggi, mercoledì un grado, è la festa dei lavoratori. Con la conseguente chiusura degli uffici postali e delle banche. Si tratta quindi di un lieve ritardo, proprio come avvenuto ad aprile causa festività pasquali. Ma non è tutto perché la doccia fredda riguarda gli importi dei cedolini. Le solite trattenute faranno sì che il totale da incassare sarà praticamente identico a quello del mese in corso, senza aumenti né agognati ritocchi verso l'alto. Grazie. Grazie.